Croazia-Marocco sono state una nella conferma e non immaginavo che la Croazia facesse un grande mondiale meritatamente terzo e ha dato lustro anche a un giocatore fantastico come Luka Modric e hanno fatto un gran mondiale veramente. La più bella sorpresa penso di qualsiasi mondiale nella storia del calcio è il Marocco. Il Marocco veramente ha dato filo da torcere anche alla Francia in semifinale ha raggiunto un livello impressionante e incredibile. Tanti giocatori hanno fatto bene Dabonu il portiere, Ziek ha fatto un grandissimo mondiale dopo che è rientrato dopo tanto tempo che era fuori Masrawi, i due centrali Agherd e Saiz, Unai, Amrabat, Enesiri, Bufal, tutti ne posso dire però va dato merito al suo allenatore Regreghi che in quattro mesi, appena arrivato in quattro mesi ha fatto un lavoro stratosferico. Gli ha fatti credere veramente che potevano fare un qualcosa di unico e l'hanno fatto. Quando un allenatore è importante ed è una guida credibile arrivano poi questi risultati. Un qualcosa di meraviglioso. Bravo al Marocco e complimenti anche alla Croazia.